Nuovamente Mossa sul parquet per questi secondi finali che rimangono da giocare. Tre ancora per Bologna, alza Bellinelli! Basta la parola, diceva un noto spot pubblicitario. Quindi ancora Bellinelli vuole il blocco di Baco, poi gli lascia il pallone. Baco rimane a tendere il consegnato per Bellinelli che si alza da tre! Marco Bellinelli! A tornare sul parquet per Brescia. Mennion per Bellinelli, si alza ancora Marco Bellinelli! Due minuti andati, qualcosa di più nel corso di quest'ultimo quarto. Bologna ha ripreso il controllo delle operazioni, più quattro ancora Marco Bellinelli! Mettiamoci anche un fallo a messo. ooi, più tardi, più tardi più tardi. Mettiamoci aspetto!